Comincia una nuova settimana di passione per il brindisi calcio, la trattativa con trio è chiusa da uno stretto riservo che non fa intuire niente di buono almeno o non a breve termine. Questa situazione societaria continua a turbare l'ambiente, soprattutto i giocatori e la vigilia di un dicembre caldo che vede quattro incontri in due settimane. Capitan Taurino e Soci dovranno infatti incontrare il Re al Nocera, Casarano, Casertane e Grottaglie. Si comincia contro il Re al Nocera, domenica al Fanuzzi, quindi turno infrasettimanale il giorno dell'Immacolata contro il Casarano al Capozza. Dopo tre giorni si torna al Fanuzzi per l'atteso incontro con un'altra nobile decaduta del Girone H, la Casertana, per poi concludere uno degli anni più difficili della propria vita sportiva nel derby con il vicino Grottaglie. I ben informati giurano che durante la sosta natalizia si potrebbe sbloccare la situazione societaria e ridare un po' di fiducia al travagliato mondo del calcio biancazzurro. biancazzurro. Intanto bisogna chiudere bene l'anno con questo filotto di gare non facili. Mister Galiano dovrebbe condurre la nave in porto con l'aiuto di Capitan Taurino. È importante cominciare bene contro i campani del Re al Nocera, sperando in buone notizie dal fronte societario.